Dicero Ciao Marisa Ciao Marisa Ciao 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 Buongiorno Ciao Guarda, sia viva, potete vengare per me lo stai? Eh, un po' con la tua madre. Ciao. Buongiorno, Martina. Nadine, tutto bene. Silvano Belgiore. Petto, belli i capelli. Ah, non se ne può più. Buongiorno. Ciao, cos'hai messo? Oggi hai un ciuffo un po' storto, come mai? Onomatopeutico, così. Onomatopeico. Per chi sono? Cosa si fa questo ciuffo così? Una mezza dozzina di rossi. Poi ti spiego. Una mezza dozzina di rossi. Poi ti dico, poi ti dico. Buongiorno a tutti. Ma come è questa cosa? Ma non mettermelo così. Ma come mai? Eh, non lo so, perché è stato così. Un po' bizzarro. Un po' bizzarro, un po' bizzarro. Poi oggi la puntata è più corta. Buona puntata, buona puntata. Che sono i miei regali? Oggi è sabato, è sabato, ti scordi, non ci sono i regalini. Perché non si riposa un po', scusami il sabato. Mi è andata male. Amici, eccoci qua, dobbiamo festeggiare la giornata di oggi, 7 giugno. Beh, oggi è un santo molto importante. È niente poco di meno che San Roberto. Roberto deriva dal tedesco e significa illustre per fama, splendente di gloria. E devo dire subito che noi facciamo gli auguri. Prima di tutto a un nostro importante e prezioso collaboratore che è in regia. Auguri Roberto! E poi, bacione da noi! E poi anche a un altro Roberto che io conosco molto bene, che sta a Roma. Auguri Roberto! Tanta gente conosci tu? E beh, io sono vecchia e ho incontrato tanta gente. Saluta a tutti! Tutti, tutti! Auguri a tutti! San Roberto visse in inglese...